Tutto quello che vivete, la voce interiore attraverso Roberta S. Sabaudia. Tutto quello che vivete non è altro che strumento, è lo strumento della vostra anima per arrivare a voi e per raggiungervi. Il punto è che molti di voi sono deboli tanto da non avere una propria dimensione di pensiero o di percezione e si lasciano dunque pilotare da quello che gli è stato insegnato. Questo fa parte di un processo interiore a cui tutti siete o siete stati sottoposti. Non potete pretendere di arrivare alla luce se nemmeno avete mai sentito parlare di luce. Allora, ora che conoscete questa realtà, sappiate ritrovarla in voi, perché finché queste nostre parole restano parole che vagano nell'aria, non saranno di aiuto a nessuno, mentre è la vostra capacità di percezione relativa a questi concetti che vi può portare a vibrare verso quella serenità che cercate. Dunque, i percorsi possono essere più complicati e meno felici se chi li vive si sente infelice, altrimenti sono percorsi come altri. Ognuno di voi deve fare un cammino diverso necessariamente. La vostra unicità sta anche in questo. Sappiate rallegrarvi di questo, sappiate essere lieti dei vostri limiti, perché non sono degli ostacoli volti ad ingannarvi o a portarvi a delle disgrazie che non cercate, ma sono semplicemente degli stimoli a reagire a quello che siete ora e che non vi piace, che non vi piace già da adesso. Allora, sappiate essere chi realmente siete, chi realmente siete ora, e non una persona che dovete ancora conoscere, ma proprio quella persona che già conoscete e che vi piace di voi.